Diciamo che il più con Zauli è fatto, vero? Sì, più o meno è stato quasi tutto definito, però c'è bisogno di aspettare qualche giorno per sistemare altre situazioni, quindi penso che in una settimana al massimo riusciremo a fare la presentazione. Un progetto, ha detto il presidente Campitelli, a media o a lunga scadenza, è chiaro che il Teramo con Zauli vorrebbe aprire un nuovo ciclo come è stato con Vivarini, più o meno ci siamo. L'intenzione e lo spirito deve essere quella, perché quando è un allenatore nuovo credo che ci sia un progetto dietro, che ci sia oltre la fiducia ovviamente, ma bisogna abbinare il progetto come ripotevo poco fa, quindi questo credo che sia essenziale per la scelta, è stato essenziale. Cosa vi ha convinto di Lamberto Zauli? Che cosa aveva in più rispetto agli altri candidati? In più speriamo che poi lo dimostri il campo, sicuramente era un allenatore che conoscevamo, l'abbiamo visto sul campo e questo fa tanto, perché quest'anno allenava St. Arcangio, che era una squadra che è stata nel nostro girone. Poi abbiamo parlato tecnicamente, più o meno molte cose convergevano, ha sposato il progetto Teramo in maniera spontanea e secondo me non rinunciando alle ambizioni.